Per esattezza io ho solo accompagnato il dottor Bettini attendendolo nella hall dell'albergo. Era lui che teneva i contatti con i nostri interlocutori e non voleva intromissione da parte mia. Ma che si sta inventando, mi diri? Io e lei ci siamo incontrati al massimo un paio di volte nel suo ufficio di Torino. Lei era al corrente del fatto che la sua banca veniva usata per riciclare denaro sporco proveniente dalla criminalità organizzata? Io sapevo che quei soldi servivano per far partire la VOS. Bettini decideva tutto e si occupava di trovare il denaro. Io mi fidavo di lui e firmavo ogni carta che mi sottoponeva. Ho capito solo troppo tardi che lo faceva in modo illecito e oramai non potevo più tirarmi indietro. Dunque lei sostiene che il dottor Bettini, ufficialmente un semplice azionista di minoranza della banca, era in realtà il vero padrone della VOS, mentre invece lei non rappresentava che un semplice prestanome. E' così.